Amici di Telegarda, buon pomeriggio. Oggi, anche oggi dopo di snar, la puntata sarà seria. Seria perché, visto che quando fanno le puntate dove diciamo molto di monale, l'azienda crede come fosse delle robe vere e basta che pensi all'ultimo intervento, la puntata che abbiamo fatto sulle luminarie di riva. Dopo il nostro intervento, lì abbiamo cominciato a pissare luci dappertutto, che quando vennerà la bolletta da parte della Mancea, vennerà a mal di testa. Stessa cosa anche sulla puntata che abbiamo fatto scherzo insieme al Beppi Paia e al Dino, sul tunnel, su quello che riguarda il spostamento della discarica. La settimana scorsa è venuto da Trento gli assessori, tutti i tecnici della provincia, e ha detto che non c'è nessun problema, la discarica e la sposta, e la sposta poco alla volta in migo, in pratica, e vennerà forse inz'altro il Nord Botanico. Allora, anche oggi, però, siamo qui ospiti del gruppo costruttori del Carnevale Arco, di cui organizza il Carnevale l'inverno, che fa l'anno passato, il Feva, il Zodalapina, penso che cambia, il Vico Run e fa il Carnevale estate. Allora, siamo a sentire adesso il tecnico, il factotum, l'organizzatore generale di tutta la manifestazione, e siamo a vedere che tipi di cari e le novità che vennerà a fare per l'anno prossimo. Siamo qui con il Dino, che è il factotum, il direttore generale di tutte le opere che vi fa del Carnevale. Allora, caro Dino, vedo che siamo a dicembre, e a me sembra di buttare avanti Stam. Sì, Stam, veramente, ne siamo buttare avanti molto bene, anche perché è freddo, la fa da padrone, allora vogliamo sempre arrivare un po' in anticipo. Penso che avete fatto anche un buon lavoro, a me piace, a me piace, un buon lavoro, e abbiamo costruito in quest'anno questi cinque carri qua. Ascolta, poti dirmi magari, così, a grandi linee per i nostri telespettatori e telegarda, se puoi anticipare magari i nomi dei carri? Sì, allora, abbiamo fatto questo qua davanti, che è il calcio a cinque, praticamente l'encarro sviluppato sul calcio. Dopo che è il carro del Messico, e dopo c'è il carro del trenino Tommy, dopo c'è il carro del Castello delle Fantasie, e in ultima, non per ultimo, il carro della nave nel ghiaccio. Ma scusa, quest'anno il gruppo dell'oratorio partecipa ancora? Sì, stavo appunto dicendo che manca un carro, che è quello del gruppo dell'oratorio, che lo costruiscono loro. Allora, mi voglio rialzare qua un altro testimonio, perché mi guardo un giro con sempre il mio testimonio. Beppi! Beppi! Ecco, allora, visto che siamo in campo, e il campo resta qua con noi, però ancora avventò la riserva, che sarebbe gonfiolo. È il nostro amico Beppi che fa il gonfiolo. Ecco, però ho una domanda. e normalmente quando faccio queste cose, chi dice, la domanda ti sorge spontanea. Ma una volta, dentro insieme a voi, che era un vecchio, che vinseva sempre lui gli archi d'argento, e continuava a dire che ma quelli li vinse perché era amico dell'Albino Marchi e conosceva la Maria Sangelini. Adesso quelli l'avevi eliminato. Cioè, come hai fatto? L'avevi da dentro che era il rotamazione? Vero, da come ti descrivi, pareva quasi che ti conoscessi questo vecchio. Però dopo anni e anni che fatti questi lavori qua di Carri, avevano deciso che era abbastanza, appunto, vecchio, obsoleto l'era. Ora l'avevano cambiata, l'avevano da dentro e, in cambio, le stocchino ha dato 2 quintai e 30 decoriandoli. Praticamente questo è il valore che aveva. Dopo anni l'avevano capire e l'avevano da dentro. Non c'è più. Ecco, vedo che si cominciava a farvi furbi. Allora, però, l'uccellino mi ha detto che a quest'ora qua, qua a trovarvi voi, doveva essere un ospite speciale. doveva venire a trovarvi una persona che è quella che un giorno, un sabato mattina, lei veniva qua e la va buttare lì, una sassata così, che si butta una sassata sull'anno guerra. e vedo... Allora, la buttata sassata nella guerra e la va dita a voi. Perché non vi mette a fare i carri del carnevale che quando ero piccolino sono mai montato su e mi piacerebbe che lo fesse? È una cacerata che veniva oppure è una cosa che è? No, no, è una cosa reale. Anzi, dovrei essere qua che arriva proprio. E le sta proprio lui che ne ha detto perché, come dicevi, non fai quella roba lì. Adesso non so se noi fai bene ad accettare o non accettare, perché andando avanti hai messo un po' di gente, come si usa dire, il culo nelle pedale. Eccoci. Oh, ciao! Ecco, buongiorno. Ciao Mario, ma dite parlare di lei perché mi vedi meglio di lei. Ecco il personaggio che aspettavano, di cui ho parlato prima, che è quello che qualche anno fa è un sabato, una dica, ma perché non continui a fare i carri? Lui è andato a mente, come ho detto prima, non so se è bene o male, però continuiamo a farlo. Ecco, lui è benvenuto. Allora, questo è per brindare i carri. Grazie. Questo è per brindare i carri. Grazie mille. Per battetarli, eh no? No, no, in realtà ho fatto il battesimo dei miei fioi. Siccome potrei avanzare, allora sapevo dove potevamo bagnare. Allora, grazie ad Alessandro Betta, sindaco dell'Arco, che ha avanzato finalmente una bottiglia del batteso dei fioi e noi la beviamo volentieri, vero? La mettiamo in fresca. La mettiamo in fresca. Allora, da Telegarda Trentino, da me, dal Franco, dal... Beppi. Beppi. Dal Fabio. Dal Edo. Dal Nicola. Dal Paolo. Dal Doso. Dal Cilaco. De Arco. Tanti auguri a tutti i telespettatori e Telegarda e invitati tutti al Carnevale del Dino. Ed è tutti noi, non solo del Dino. Buone feste. Orgullo. Ciao. Ciao.